Ciao a tutti cari amici, bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Allora, come potete vedere, ho già preparato i nostri due mazzetti per la canalizzazione della sera, la variante numero uno con questo filtro, diciamo, e la variante numero due con il gattino. Io vi ricordo, mentre scegliete, che questi sono interattivi, quindi mi raccomando, cercate di non forzare le cose se sentite che non vi appartiene. Questi video vanno bene per tutti i tipi di coppie, quindi donne che guardano per uomini, uomini che guardano per donne, coppie arcobaleno, e sono validi dal momento in cui vengono visti. Vi ricordo inoltre che se mi volete contattare lo potete fare via mail a tarot, tai tarotchiocciolagmail.com o via whatsapp al 371 636 0228. Trovate tutto naturalmente in descrizione sui vari video. Inoltre, per chi fosse interessato a imparare le carte, ci sono gli abbonamenti sul canale YouTube che riguardano sia gli abbinamenti tra le carte, anche la possibilità di inviare una stesa per commentarla, diciamo, insieme. Quindi voi mi mandate la vostra interpretazione di una stesa di massimo 5 carte e dopo di che io vi aiuto a capire se la state interpretando correttamente o meno. Io vi lascio un attimo, anzi partirei subito con la variante perché presumo che l'abbiate scelta. Se non è così, stoppate il video e fatelo con tutta calma. Allora, metto qua la prima variante e stendo subito le carte e andiamo a vedere qual è la situazione di questa sera per la variante numero 1. Allora, qui sicuramente abbiamo una persona che ha intenzione di fare delle azioni, cioè sta riflettendo su come muoversi perché vorrebbe proprio prendere l'iniziativa. E' un uomo che vi vede veramente, come posso dire, come quasi degli angeli. Qua c'è una ballerina, come potete vedere. Quindi è una persona che comunque desidera muoversi con cautela, con parsimonia, facendo i passi giusti soprattutto. E vi vede delle donne veramente bellissime. Cioè, pensa che voi possiate comunque dargli tutto quello che lui desidera dalla vita affettiva e sentimentale. Vi vede attraenti, soprattutto anche a livello fisico, belle esteticamente. Però questa persona, diciamo che, è molto timorosa nel prendere questa iniziativa. Cioè, ci sta riflettendo molto. Infatti è pesante come pensiero, perché è al centro proprio della stesa. Ed è un uomo che sta riflettendo molto su come risolvere i problemi. Sta mettendo a fuoco come si può muovere. Probabilmente per alcuni di voi potrebbero esserci stati delle incomprensioni, dei litigi. Perché qua vedo comunque che ci sono delle nuvole. Quindi in qualche modo, probabilmente, c'è stata una situazione di confusione, di incomprensione. E questa persona sta cercando di capire come poter risolvere. E ha intenzione di fare proprio un'azione. Quindi se qui ci sono stati litigi, magari anche in amicizia. In qualche modo c'è un distacco al momento. Qui si sta proprio pensando al prendere un'azione. Però emerge anche che questa persona teme come la vostra reazione. E ha paura, in qualche modo, di prendere un duo di picche. Di essere rifiutato. Cioè, di avere un'azione che viene in qualche modo rifiutata. Ma ha dei pensieri che riguardano anche la sfera emotiva. Cioè, questa persona si sente nutrito da voi. Si sente appagato. Percepisce che le vostre anime si toccano l'un l'altra. Ha una forte sensazione di appagamento. E pensa, appunto, che insieme possiate comunque costruire qualcosa di importante. Vedete come questo uovo, perché c'è un uovo dietro. Che comunque è simbolo della creazione. Ok? È pieno di frutta. È pieno di fiori. Quindi è qualcosa che germoglia. Qualcosa che è abbondante. Però questa persona ha questo timore nell'affrontare l'iniziativa. Vedo anche che tra di voi c'è un po' uno studiare la situazione. Un cercare di capire come siete voi. Com'è il vostro rapporto. Dove vuole andare questo rapporto. È una persona che comunque vi vede veramente anche florida a livello intellettuale. Per alcuni di voi potrebbe esserci la musica di mezzo. Se suonate, questa persona sente in voi veramente un collegamento animico importante. Cioè, gli parlate attraverso la musica a questa persona. Se naturalmente fate parte dell'ambiente musicale. Altrimenti riguarda proprio la vostra creatività, la vostra capacità di essere disponibili anche nell'aiutarlo magari a risolvere dei problemi. Cioè, questa persona vi vede veramente come un uomo o una donna in grado di appagarlo in tutti i sensi nell'ambito della propria vita. Vediamo che cosa vi dice questa persona con le frasi. Non posso stare con te. Ti sento distante. Per coloro che hanno scelto la prima variante. Tornerò da te. Ti prego aspettami. Per coloro che hanno scelto la prima variante. Prendiamo un'altra frase. Ti controllo sui social. Non riesco a lasciarti andare. Questa persona, secondo me, ha paura di mettersi in contatto con voi. Perché qua o siete impegnate voi. O è impegnata l'altra persona. Ma qui non posso stare con te. Ti sento distante. Tornerò da te. Ti prego aspettami. Ti controllo sui social. Allora, qui per alcune di voi questa persona potrebbe sicuramente essere impegnata. Perché qua proprio dice che, a parte che vi controlla sui social, ma non riesco a lasciarti andare. Quindi probabilmente sta tentando di mollare la presa. Ma non ce la fa. Non ce la fa. Non posso stare con te. Ti sento distante. Sicuramente voi, in qualche modo, se questa persona è già impegnata, state un po' andando oltre. E quest'uomo sta temendo di perdervi. Quindi questa è un po' la situazione. Vediamo. Per alcuni potreste essere anche voi impegnate. Comunque ricordo sempre che sono interattivi. Quindi cercate di cucire in base alla vostra situazione. Sempre. Vediamo un po' cosa esce. Quindi abbiamo il capricorno. Nella prima variante. Lo scorpione. L'acquario. Vediamo altri due segni. Per la variante numero uno. Il sagittario e i segni di aria. Quindi aria, acquario, gemelli, bilancia e il sagittario, quindi segno di fuoco. Va bene. Variante uno. Io vi ringrazio moltissimo per aver seguito il video. Vi ricordo che mi potete contattare via mail o via whatsapp. Trovate tutto in descrizione. Ma vi invito a commentarmi. Ditemi se le stese risuonano con voi. Mettete un like. E se non l'avete ancora fatto. Vi raccomando di iscrivervi al canale. Così vi arrivano anche tutte le notifiche. Ogni qualvolta carico un video. Io vi mando un abbraccio grossissimo. E vi auguro una buona notte. Oioioi. Stanno aprendo tutte le carte. Andiamo adesso alla variante numero due. Eccoci qui. Per coloro che hanno scelto il simbolino con il gattino. Andiamo ad aprire la stesa. E vediamo cosa abbiamo questa sera. Allora. Beh diciamo che qui al momento mi sembra che abbiamo una persona un pochettino confusa. È un uomo che tutto sommato non pensa più di tanto al rapporto che c'è tra di voi. Anzi direi che c'è quasi una sorta di vuoto rispetto alla situazione che c'è con voi. Quindi o questa persona non capisce voi o la situazione. O è un uomo o una donna che in ogni caso non è pronta. Cioè non è nel momento giusto probabilmente. Qui abbiamo una persona che sta resistendo a qualcosa di effettivamente molto fruttuoso. Molto abbondante. Qualcosa che sa che può dargli del benessere. Questa persona vi vede molto creative. Molto intelligenti. Vede in voi che avete la testa colma. Vedete come ci sono questi frutti. Quindi c'è qualcosa. C'è tanto di buono che questa persona può prendere da voi. E lo sente. Cioè è proprio quello a cui pensa. Questa persona ama la vostra testa. Il vostro modo di pensare. Però vedo anche che o voi siete particolarmente misteriose con questa persona. Ma un po' non vi capisce. Forse non capisce i vostri comportamenti. Il vostro modo di vivere. I vostri atteggiamenti rispetto a determinate situazioni. E c'è una sorta di resistenza nei confronti di questi sentimenti. Questo me lo mostra qua la carta appunto della resistenza. Vedete che c'è questa mano che fa di tutto per far morire questa vegetazione in crescita. Quindi è da capire perché resiste in questo modo. Qua per alcuni di voi potrebbe riguardare il lavoro. Potrebbe riguardare una famiglia di origine. Una famiglia ufficiale. Se alcuni di voi hanno un ambiente professionale in comune. Magari è un datore di lavoro. Lui il dipendente. Oppure il maestro. L'allievo eccetera. Questi tipi di ruoli che sono un po' complicati da gestire a livello sentimentale. Questa persona diciamo si sente in una fase di rest... Sta tenendo le redini rispetto ai suoi istinti. Come potrebbe pensare che le teniate voi le redini. Quindi cercate un attimo di cucire in base al vostro rapporto, alla vostra situazione. C'è uno studiare comunque come fare. Qua potrebbe essere una persona che ama i libri, che ama leggere, studiare. E sta cercando di accettare le vostre diversità. Il fatto che non vi comprende su alcune cose. E quindi in qualche modo anche capire come proseguire nell'andamento del rapporto. Quindi vediamo un po' che cosa vi vuole dire questa persona. Innanzitutto per la variante numero due. Sono io quello giusto per te? Quindi qua probabilmente il blocco è dovuto anche a una situazione vostra. Oppure sa di essere quello giusto ma è impegnato o non può comunque farsi avanti. Vediamo che cosa vi dice ancora questa persona. Lo so che sei innamorata di me. Sono geloso. Ti sento distante. Infatti qua c'era la carta del vuoto. Voglio essere più di un amico per te. Quindi qua abbiamo una persona che probabilmente o si è esposta o non si è esposta ma non sa come fare. Ho bisogno di parlare con te. Eccola qui. Va bene. Vediamo i segni zodiacali per la variante due. Mi raccomando poi ditemi nei commenti la vostra storia. Abbiamo il segno dei pesci. Abbiamo il segno del cancro. Abbiamo il segno del cancro. La variante due. Cosa mi esce? Vediamo un po' altri segni. Segni. Allora il sagittario. I segni d'aria. Quindi acquario, gemelli e bilancia. E i segni di terra. Quindi capricorno, toro e vergine. Quindi pesci, cancro, sagittario. I segni d'aria e i segni di terra. Un po' in generale diciamo. Va bene. Variante due. Io vi ricordo che se mi volete contattare lo potete fare via whatsapp. Al 371 636 0228. Sono disponibili tutti i tipi di pagamento. Quindi se non c'è nessun tipo di problema. Quindi se volete contattarmi anche semplicemente per informazioni io vi mando tutta la lista dei servizi disponibili e come si svolgono. Io vi mando un abbraccione grandissimo e vi aspetto con i prossimi interattivi.